La tragedia di Prato scuote le coscienze, ma impone anche alcune riflessioni. La prima, che si sia trattato di una tragedia dell'indifferenza. La seconda, che in queste ore stiamo invece assistendo alla fiera dell'ipocrisia. E allora ci siamo chiesti se una tragedia del genere possa mai interessare anche il nostro territorio. Ad Arezzo la comunità cinese sfiora le mille unità ed ha registrato un incremento del 16% nel 2012. Le attività gestite da cinesi sono prevalentemente nel settore del commercio e della ristorazione e sono aumentate negli ultimi 12 mesi del 20%. Numeri importanti che fanno collocare Arezzo al quarto posto in Toscana. Secondo la comandante della Polizia Municipale di Arezzo però non ci sono realtà così degradate come quella di Prato. Mi sento di affermare che non ci siano casi di questo genere perché comunque ovviamente io parlo dall'osservatorio Polizia Municipale nel senso che situazioni legate a laboratori gestiti appunto da questa comunità e situazioni così irregolari come quello che si sono visti a Prato mi sento di dire che non ci siano. Da noi ci sono probabilmente più situazioni di irregolarità sotto il profilo della correttezza dei rapporti di lavoro cioè il cosiddetto lavoro in nero che comunque purtroppo non è una prerogativa soltanto della comunità cinese. Ecco c'è un grande proliferare anche di negozi proprio di commercio di prodotti made in Cina insomma questo sì. Esatto nella nostra realtà a Retina c'è più una situazione legata appunto al commercio che però diciamo che anche queste attività vengono monitorate, controllate dagli organi di polizia come tutte le altre e non si segnalano situazioni particolari di illegalità. Grazie a tutti.